Qui a la LUIS è possibile sentirsi imprenditori di se stessi, una costruzione possibile grazie a tutte le sinergie presenti in università. Sono Massimiliano e vengo da Padova, frequento il corso di laurea triennale in economia e management. È fondamentale che oggi un ragazzo esca dall'università non solo con una laurea in mano, ma già con un bagaglio di esperienze concrete. La LUIS mi ha dato la possibilità di fare molte attività extradidattiche, dalla radio ai corsi di public speaking. Per me la LUIS è un grande team. In questa squadra ci siamo io, i miei colleghi, ma anche i professori. Questa è un'interazione costante e costruttiva. Tra una lezione e l'altra, parlando con i compagni di corso, nascono sempre spunti interessanti Così ho avuto l'idea di una start-up che proporrò a LUIS & LABS l'acceleratore d'impresa della nostra università. Insieme si diventa!